Un video a quest'ora, ma cosa sta succedendo? No, niente, tranquilli, semplicemente stasera non ci sarà la nostra solita live, se volete sapere il perché seguitemi su Instagram e su Twitter e vi farete anche delle risate, ve lo garantisco, però non vi voglio lasciare senza il nostro aggiornamento del fine settimana, per due motivi, il primo che ci sono un paio di notizie di cui va la pena parlare e discutere, il secondo motivo, non so se avete visto, la candela di oggi, insomma, c'è un po' di turbolenza nell'aria e è un punto fondamentale quello dove ci troviamo, perché in base a quelli che saranno i prossimi movimenti immediati, proprio dei prossimi giorni, decideremo se vogliamo ritornare bullish facendo un bel colpo, insomma, sostenuto da una domanda galoppante, oppure se la domanda sia già spenta ci spegniamo e ritorniamo di nuovo nel solito punto di Moria, dove zero volatilità, zero volumi e non ci si muove e le probabilità di scendere sono maggiori. In particolare ho anche notato due possibili cose interessanti. Una è un punto di ingresso, nel caso in cui ritracciamo ancora un po', su un supporto che abbiamo per ora riconquistato, quindi interessante soprattutto per chi vuole cercare un trade e in seconda battuta è quasi giunta l'ora, visto che ci siamo alzati un po' di prezzo, di andare a trovare lo short di copertura famigerato, quindi vi dirò esattamente quali sono i miei piani a riguardo. Comunque basta chiacchiere, come al solito vi chiedo di dirmi nei commenti se vi piacciono anche questi video analisi flash di durata un po' inferiore alle live, visto che molti di voi ancora mi dicono sono troppo lunghe e non ce la faccio a vederle, ogni tanto pensavo sempre di alternarle con video di questo tipo. Sempre datemi feedback che ci tengo molto e li tengo in considerazione. Ora seguitemi e andiamo a vedere notizie e grafici. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Sto tenendo sotto strettissima osservazione il grafico di bitcoin perché oggi sarebbe la prima candela rossa che spezza una serie storica di ben 9 candele verdi. 9 candele verdi l'ultima volta che ci sono state a fila è stato in ottobre 2015 quando bitcoin si è svegliato da due anni di bear market. Pensate che 10 candele verdi a fila, stando a quanto ho letto qui ho fatto un po' di controlli a campione, non ho guardato tutto lo storico ma mi sembra vero, non ci sono mai state. Pensate, pazzesco e quindi insomma potremmo fare veramente un record mondiale. Al di là di questo si sono aperte un sacco di speculazioni che bitcoin potrebbe essere quindi allo stesso punto nel quale si trovava nel 2015, il che chiaramente porrebbe questo ritracciamento come terminato e come una fase di pre bull market. Quindi sarebbe una sorta di motori che si scaldano per bitcoin. Però ovviamente bisogna sempre prendere tutto questo con le pinze perché prendere un dato come il numero di candele verdi a fila e ricamarci sopra così tanto secondo me è sempre esagerato. La cosa che conviene fare è guardare giorno per giorno i grafici, il mercato, ciò che succede e contestualizzarlo con quello che è il presente. Ne parliamo tra cinque minuti perché adesso vi vorrei mostrare tre notizie che ho selezionato per questa versione stringata breve della live, non live in realtà. La prima riguarda paypal, vado per importanza perché paypal come sapete è stato una di quelle applicazioni finte, una di quelle aziende che sono state tra le prime ad annoverare la possibilità di comprare e vendere bitcoin direttamente dalla loro app e poterlo utilizzare per pagare i commercianti sempre direttamente dalla loro app. E quello era solo un punto di partenza perché al momento l'esperienza bitcoin e cripto su paypal è ancora molto limitata, ci sono dei limiti di acquisto e vendita molto restrittivi e soprattutto dei limiti geografici. Al momento è disponibile soltanto agli utenti statunitensi, la parte cripto. La notizia infatti che vi volevo condividere oggi è stata, è emersa durante il report degli utili trimestrali, questo è il periodo degli utili trimestrali di molte aziende e i fondatori, i dirigenti parlano agli investitori. Quelli di paypal hanno parlato mostrando i loro piani futuri, nei loro piani futuri si annovera innanzitutto l'estensione dei servizi cripto che offrono, in primis la possibilità di deposito e prelievo verso e da wallet esterni. Al momento sapete bene che i bitcoin che compri e vendi su paypal rimangono su paypal, nonostante si tratti di fatto di bitcoin fisici perché lavorano insieme a Itbit, in collaborazione con Itbit che è un'azienda del gruppo Paxos regolamentata che gli fa proprio da provider di liquidità, da exchange sottostante. Tuttavia il non poter spostare i bitcoin altrove chiaramente non piace soprattutto ai puristi che magari li vogliono acquistare e detenere su un hardware wallet, ecco quello sarà possibile. Un'altra cosa che sarà possibile sarà metterli a rendita e anche questo avverrà secondo rumors tramite piattaforme di DeFi, altri rumors parlano di una partnership con Celsius Network, non lo so, io ve li butto lì come rumors perché ormai finché una notizia non viene ufficializzata dalle fonti reali, quindi dall'azienda direttamente coinvolta, io aspetto a darla per buona, sta di fatto che sicuramente hanno intenzione di offrire possibilità di rendita direttamente da paypal. Sarà interessante, secondo me sarà anche un driver di domanda notevole visto comunque quello che è il panorama di investimento attuale e le rendite molto basse offerte dagli strumenti finanziari tradizionali. Inoltre hanno intenzione di diventare, hanno detto, quella che è la WeChat in Cina, nell'Occidente, chiaramente negli Stati Uniti, andando ad ampliare sempre di più le loro funzionalità, introducendo anche un sistema di pagamento messaggistica, insomma cercando di creare proprio un'app a tutto tondo dove il cliente si fidelizza tantissimo e le crypto stanno avendo un ruolo sempre più importante nel loro business model. Seconda notizia, Synthetix arriva su layer 2, in realtà c'era già arrivato la parte di creazione dei Synth, alcuni Synth, gli asset sintetici, adesso è arrivata anche una versione di prova, sempre, del loro exchange che si chiama Quenta. Questa versione di prova è ridotta, limitata ad alcuni di questi Synth, vedete c'è SUSD, SBTC, SETH e SLINK, però la cosa interessante è che appunto è un inizio di traslazione del protocollo Synthetix, che è uno dei più importanti per la DeFi del mondo Ethereum, in quanto gli asset sintetici sono, come abbiamo conosciuto anche con Mirror, una parte veramente importante del mondo DeFi, lo sbarco su layer 2 su Optimism in particolare li rende fruibili da chiunque, proprio perché le Fi si abbassano di più di 50 volte. Quindi, niente, sono curioso di vedere anche quelle che saranno le espansioni su layer 2 Optimism, che sembra quello un po' più di moda al momento dopo Polygon, rimanendo chiaramente nel mondo Ethereum. Poi, a proposito di Terra Luna, a cui dedicheremo anche tra poco un'analisi, perché di fatto è una delle poche altcoin che offre un possibile setup long interessante. Allora, in particolare, guardate, questo è il trend della supply, ho preso questi dati da Terra Analytics, che ha fornito da Smartsteak, che ha un validatore, insomma, e fa vedere, è interessante perché fa vedere la supply in tutte le sue forme. Quindi, in arancione, circulating supply in milioni, quindi la supply circolante, di fatto. In azzurro, quella in stake. In verdino, quella liquida, quindi prendi il circolante, tiri via quella in stake, in sostanza. E, in fondo, quello in grisio, sono quelli bruciati recentemente. Come ben sapete, se vengono creati nuovi USD o altre stablecoin del mondo Terra, vengono bruciati dei Luna, riducendo la supply. Questa è un po' la sua forza. Viceversa, ve lo ricordo perché è corretto farlo, se non c'è più domanda per USD e vengono distrutte delle USD, si viene a creare della nuova supply di Luna. Comunque, questo per farvi vedere quello che è un po' il trend generale. Guardate il verdino, che è il, forse, il parametro più importante. Cioè, sono i Luna liquidi, il che vuol dire, nei wallet, negli exchange, non messi in staking, non vincolati in qualche modo. Il trend è di decremento da sempre, con una particolare accelerazione, vedete, nell'ultimo periodo. Questa è la cosa interessante, ok? Qui inizia in febbraio del 2021, quindi è praticamente l'inizio di quest'anno che ci sono i dati, da cui iniziano i dati. Nell'ultimo periodo c'è stata abbastanza un'accelerazione, nonché un trend crescente, vedete, dei Luna messi in staking. E questo, di fatto, ha ridotto poi la supply, la supply liquida, ok? Quindi questo è un po' il motivo. Nell'ultimissimo periodo c'è anche stato un decremento della supply circolante a causa di un incremento del burn. Non si vede bene mettendo un time frame così ampio. Proviamo a ridurlo un po', è qua neanche, forse con tre mesi si vede meglio. Comunque sappiate che questo trend, eccolo un po', sì, questo trend è dato soltanto dall'esistenza al momento di tre piattaforme. Cioè, pensate tre protocolli su Luna, su Terra, sulla blockchain Terra. Pensate cosa potrà succedere, da un punto di vista della domanda appunto di UST e quindi della supply di Luna, una volta che ci saranno tutti quei protocolli lanciati, quelli che vi avevo anche condiviso proprio a scopo di informativo. Guardate quanti ce ne sono in fase di lancio. E caspita, sicuramente non avranno tutti successo, magari 5 su 6 di questi sono delle cavolate assurde, non lo so. Molti no, perché sono interessanti, però ne vedo alcuni che sono andato a approfondire anche un po', non tutti ancora, però sono, insomma, si potrebbe anche farne a meno. Però la cosa interessante è che, insomma, aumenteranno sicuramente la domanda di UST e di conseguenza diminuiranno la supply di Luna. Bene, notizia nuovissima. Mi sono un attimo impappinato perché ho visto che è comparso adesso il nostro V-Blockchain, che è il Fudder per eccellenza. No, scherzi a parte, anche la Securities Commission della Malesia è contro Binance, vediamo. È in diretta, lo sto scoprendo insieme a voi questo. Il Legal Operating Digital Asset Exchange, niente, quindi anche loro vogliono la licenza all'interno del loro paese. Niente, la lista si allunga, ma Binance, come abbiamo visto, sta lavorando proprio in questa direzione. Bene, ora è il momento di andare a dare un'occhiata ai grafici che sono un po' la parte succosa, perché, guardate, c'è della roba in ballo. Quello che sta accadendo è un attacco, guardate, al livello di resistenza più importante del momento, cioè quello tra i 40.000 e i 42.000, che è il picco massimo, diciamo, di questa zona di liquidità che delimita il range nel quale ci muoviamo da mesi. È un range che ha acquisito molta rilevanza, proprio per il fatto che ci muoviamo dentro adesso da mesi. E quindi più dura un range, come vi ho detto tante volte, e più diventa un po' quello che è il punto di riferimento del movimento di questo periodo. Infatti potete vedere la quantità di volumi che si sono accumulati qui dentro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se confermiamo poi un'eventuale uscita, questo diventa una barriera di prezzo enorme anche per il futuro, una sorta di trampolino di partenza, area di accumulazione, volgarmente viene chiamata, proprio perché si sono mossi tanti volumi, in tanti hanno scambiato, e il fatto che poi è partito a rialzo significa che l'obiettivo di chi ha scambiato qui dentro dei grossi capitali che si sono mossi per scambiare qui dentro era proprio accumulare prima di far ripartire il prezzo a rialzo. Questo ovviamente vale anche al contrario, perché se per disgrazia dovessimo andare a perdere questo livello, ecco che diventerebbe una resistenza molto importante, ed è per questo motivo che stressò molto durante questi mesi sull'importanza di questo range. All'interno del range, visto che si sono create delle dinamiche interne, dato che comunque essendo la volatilità decrementata, non ci sono più i trader, i market mover, che vanno ad agire sui trend, perché non ci sono trend, ci si muove all'interno del range. Quindi, la prima area di prezzo rilevante all'interno del range stesso è questa qua, evidenziata in verde, che si trova nell'intorno dei 36.000 e qualcosa. Ok? Quindi, al momento, in passato cos'era stata? Era stata, è partita da qua, quando c'è stato l'attacco scorso ai 40.000 e oltre, che si è risolto in un falso attacco, perché, vedete, c'è stato lo sweep della liquidità, spazzata via da sopra al precedente massimo, e poi l'offerta che ha inabissato subito il movimento. Qui c'è stato un attimo di pace, quindi un attimo di lateralità, una o due candele, dico, che hanno creato, appunto, un cluster di prezzo, e poi il dump finale, pam pam, super aggressivo, e il bottom locale, qua sotto, che è praticamente il minimo di tutta la zona, a parte il dump iniziale. Questo è importante perché l'origine di quest'ultimo dump è proprio questo livello di prezzo, che fino a pochi giorni fa era rosso, se vi ricordate, e lo avevamo sempre adocchiato come primo riferimento importante, perché tutti coloro che hanno shortato da qua in giù, se questo livello veniva bucato, mangiato, in qualche modo rimanevano in perdita, o liquidati, o stoppati, cosa che è accaduta, e infatti, guardate cosa è successo qua, c'è stato uno squeeze di massa, solo su Binance, perché, vabbè, è dove ci sono comunque la maggioranza delle posizioni aperte, il giorno dopo c'è stato anche un Bullish Retest dello stesso livello, e poi c'è stata la continuazione. Adesso, le ultime tre candele mostrano un evidente indebolimento di questo movimento in essere, perché, come potete vedere, l'origine è stata forte con l'Engulfing Bullish, poi siamo saliti, 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 le nostre nove candele verdi, una in fila all'altra, con tanto di Bullish Retest, e poi, vedete, qua hanno iniziato ad avere dei body più piccoli, il che vuol dire indecisione. Questa è una candela di indecisione, body minuscolo e shadow identiche, quindi non so da che parte andare. Candela di ieri, ancora più indecisione, cioè, veramente, non c'è nessun tipo di direzionalità, e poi oggi, apparentemente, si è iniziata a manifestare un po' di direzionalità ribassista, che darà un attimo uno scrollone, perché l'offerta, quindi, dovrà decidere bene, è il momento di entrare in gioco, abbiamo fatto il top locale, andiamo a vendere e torniamo più in basso, e di contro, la domanda, dovrà anche lei entrare in gioco, se vuole dire, bene, ok, tu stai provando a vendere, attenzione, io difendo i miei livelli, compro, assorbo e ricontinuiamo a salire. Quindi questo sarà l'esito importante. Io vedo due possibili scenari. Il primo, quello un po' più aggressivo, lato domanda, lo dobbiamo vedere sull'intraday, sarebbe quello di, immediatamente adesso, quindi in questa candela, probabilmente quando avrò condiviso il video, sarà già successo qualcosa, visti i tempi, proprio la rapidità della cosa, e quindi lo sweep di questo livello, che è già stato fatto, ma magari si fa in maniera un attimino più violenta, che si risolve immediatamente in un assorbimento, con la domanda che riprende il controllo, e riporta il movimento sopra i 39.250, che è appunto questa zona di lateralità, tac, vedete, con volumi, che si è creata proprio nell'immediato, nell'ultimo periodo e nel breve. Ritornare qui potrebbe addirittura, per qualcuno, per qualche intraday, essere già un setup long. Comunque questa è l'opzione più di breve, ripeto. Andando invece un po' più su uno zoom ampio, diciamo, dobbiamo andare a tenere d'occhio di nuovo il livello 36.000 ed intorni. Andiamo sul daily che si vede meglio. Allora, se il movimento diventerà un attimino più rilassato, magari prenderà qualche giorno, adesso oggi magari chiudiamo qui, domani scendiamo ancora un po', poi risaliamo, poi riscendiamo, insomma, un movimento non immediato e direzionale e fulminio, come quello descritto prima, un retest di questo livello potrebbe essere un setup da tenere sotto controllo per un eventuale ingresso. Ok, tac, ingresso qua. Lo stop loss lo si può andare a mettere, ad esempio, sotto ai 34.600, che è questo doppio minimo precedente, nonché, vi ricordo, livello settimanale importante. Tac, questo è il livello attualmente più importante in assoluto. Adesso dobbiamo vedere dove chiudiamo il settimanale ci aggiorneremo lunedì a riguardo, ma se perdiamo questo livello, vabbè, ovviamente, purtroppo è, la situazione volge di nuovo estremamente al bearish. Quindi questo è un setup molto vantaggioso, secondo me, perché ha un rischio rendimento bello, ok? Molto favorevole, molto, molto favorevole. Al contrario, vabbè, non ve l'ho detto, sempre sul settimanale, se andiamo a rompere qua, o meglio ancora qua, molto bene, cioè c'è una bella spinta e mi piacerebbe vedere uno scenario di questo tipo. Venendo invece al bullish, quindi, A, ritracciamo qui e ripartiamo, B, sweep magari, e ripartiamo addirittura subito, sarebbe proprio una dimostrazione di presenza e di forza da parte della domanda. In ogni caso, entriamo nella mia area di short di copertura. Come ho intenzione di gestirlo? Allora, in realtà, riflettendoci un attimo, ho pensato di gestirlo in questo modo. Voglio vedere l'approccio a quest'area. Quindi, l'area tra i 42.000, per capirci, e i 46-47.000, qua sopra. Se ci entriamo dentro con una candela verde piena, così, io non lo apro, chiaramente, perché non c'è segno di offerta. Se ci entriamo dentro e ci sono segni di assorbimento, quindi una shadow lunga, body corto, eccetera, io lo apro subito preventivamente. Se, al contrario, facciamo un falso, un attacco qua sopra, e poi ci rispediamo di nuovo qua, io credo che aprirò lo short speculativo, a questo punto. Non più quello di copertura, perché abbiamo uno stop loss da mettere in un punto molto preciso, e quindi si sposa meglio con lo short speculativo. Allo stesso modo, lo short di copertura ha intenzione di aprirlo, se andiamo avanti a fare un movimento, che apparentemente è bullish, ma poi facciamo un lower high, e abbiamo tipo un engulfing bearish, un dump improvviso, un qualcosa che, insomma, ci fa riperdere questi supporti fondamentali. Io, come sempre, rimango dell'idea che più ne recuperiamo di questi, e più la situazione volge al bullish. In particolare, se recuperiamo questo, da dove è originato il dump, insomma, molti short ce li lasciamo alle spalle, però, se poi facciamo un engulfing bearish, e andiamo a riperderli, bam, con violenze, in poco tempo, soprattutto, allora lì è un altro setup da short di copertura. Questo è un po' il quadro generale della situazione. Per quanto riguarda le altcoin, oggi hanno avuto un attimo di respiro, ma la situazione non cambia. Come vedete, il trend della dominance è rialzista, e quindi, per me, le altcoin sono ancora da non considerare. Personalissima opinione. L'unica eccezione che faccio è Luna, che al momento, invece, è in una situazione molto bullish. In particolare, guardate qua, c'è un possibile entry sui 26.000 Satoshi, in un'area che va, in realtà, fino ai 23.800, qua dentro. Se dovessimo rientrare da queste parti, c'è un long con stop loss, magari qua sotto, vedete, sotto questo puntino qua, e basta. O altrimenti, per chi vuole una posizione più larga, lo stop loss potrebbe essere sotto i 20.000 Satoshi. A prescindere da questo, adesso sto iniziando a strutturare un attimino il pack, adesso che è finito il mese, per mettere dentro anche una piccola parte di Luna, all'interno del mio portafoglio investimenti. Amici, questo è quanto. Se avete dubbi, domande, qualsiasi vostra condivisione, io ovviamente vi chiedo di farla nei commenti, vi chiedo se, secondo voi, sarà un nuovo 2015 per Bitcoin, quindi se il bull market è appena iniziato, viste le nove candele bullish, oppure se in realtà non è cambiato assolutamente nulla. Insomma, ditemi la vostra, noi ci vediamo lunedì in live, mi raccomando, seguitemi su Instagram e Twitter per oggi e per domani. Io vi faccio un caro saluto, vi auguro un buon weekend e alla prossima!